Ben trovati cari amici a un nuovo appuntamento di Quarta Parete con Pari delle Porali. La Quarta Parete guarda al mondo della politica. In queste ore il governatore della Calabria, Roberto Chiuto, ha fatto i tradizionali auguri, ma anche, oltre a trarre un bilancio su cui non interveniamo in questo momento perché non c'è lo spazio, ma ci interessano le notizie politiche che sono emerse. La prima, a mio parere, è stato il fatto che Roberto Chiuto ribadisce che non si presenta alle elezioni europee. Lo aveva già detto, sicuramente ci saranno candidature calabresi che porteranno pieno in cascina per Forza Italia, ma Chiuto non è disponibile, si deve occupare della Calabria, bene fa perché i dossier sono tanti, però emerge un'altra notizia che è quella che finito questo mandato, Chiuto non si ricandida governatore. Ebbene, questo ci lascia un po' perplessi, visto l'impegno che ci mette l'attuale governatore, perché tradizionalmente c'è bisogno di due mandati per compiere una missione di questo genere, anche per i presidenti americani è così. Il primo si traccia la strada, nel secondo si va a completarla. C'è da dire che in Calabria mai nessun governatore è stato riconfermato per due volte. Ne prendiamo altro. Intanto è successo qualcosa di importante anche a Riace, paese calabrese noto in tutto il mondo. Mimmo Lucano, anche qui in questo caso, ha detto che non si presenterà alle europee, come personalmente ospicavo, perché è uno dei pochi personaggi che è un federatore della sinistra. Sarebbe stata una candidatura interessante, però Mimmo Lucano non lascia, anzi rilancia. Il rilancia proprio da Riace, il suo comune famoso nel mondo per l'accoglienza, dove nascerà una lista, con lui candidato a sindaco, Riace per l'Italia. È l'esperimento dal basso, molto interessante. Raccoglie le adesioni di tutta la sinistra. Quindi magari in questo microcosmo calabrese anche la sinistra potrebbe trovare una strada fra le sue mille divisioni nel progressismo italiano. E infine, Marcello Manna non ha potuto fare una conferenza stampa natalizia di auguri di fine anno, perché un sindaco sospeso per scioglimento, ma è uno scioglimento che ha fatto molto parlare, discutere. C'è stata una conferenza stampa, ma è stato molto duro sulle questioni dello scioglimento e in particolar modo ha detto che c'è stato un suggeritore politico nella sua vicenda. Non ne fa il nome, però ha detto una frase. Se c'era Iole Santelli, tutto questo non sarebbe accaduto. Non spiega perché, lascia intendere. Per quanto è complicata la vicenda, forse Marcello Manna dovrebbe chiarire meglio. Chi è il suggeritore è perché, se ci fosse stata Iole Santelli, sarebbe andata in altro modo. Questa era Quarta Parete, un saluto da Pari delle Boracce. Questa era Quarta Parete, un saluto da Pari delle Boracce.